La società sportiva, la scuola, la maglia numero 1, Almano, Pissarri, numero 2, Stefan, Link, Steiner, 25, Emitzio, Ribari, 26, Stefan, Radu, 11, Alexander, Polaro, la maglia numero 6, Guzmán Dabó, numero 33, Capitano, Roberto, Barogno, la maglia numero 8, Franselino, Matusani, la maglia numero 17, Pasquale, Boccia, numero 13, Paolo, Atinas, Salate, numero 74, Julio, Luz, la maglia numero 86, Fernando Pistera, numero 5, Stefano Mauri, numero 7, Stefano Verena, numero 9, Tommaso Rocchi, numero 32, Cristian Rocchi, numero 87, Bobidò, Giacchite, numero 99, Riccardo Perpetuini, l'allenatore Davide Ballardini.